Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati sulle YouTube, eccoci in questo video per andare a vedere gli aggiornamenti di questo venerdì, seconda settimana della stagione in corso la stagione primavera in fiore, andiamo ad aprire il pacchettino vedete mancano 20 giorni e 19 ore, intanto ci sono un po' di novità in questo venerdì andiamo a vedere con calma tutti insieme, piano piano, intanto mi raccomando ragazzi mettete un bel mi piace a questo video se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale, noi facciamo un po' tutti i video per il gameplay di Asphalt allora, il nuovo evento subito qua nell'evento speciale Rima Concept S, arriva preciso perché io qua mi sono bloccato al Torino Design Super Sport, quindi andiamo un po' a vedere in modo veloce poi vedremo di farlo in modo un po' più dettagliato, già qui un'auto che non ho sarà in prova gratuita, andiamo a vedere, sì, prova gratuita, al massimo di stelle qui andiamo a fare tutte le condizioni e ci andiamo a prendere 30 gettoni 6 progetti della Rima Concept S, più qui altri 4, sono già 10 i livelli in tutto, andiamoli a vedere, sono un bel po' 18, 220, 361 le condizioni, andiamo a vedere un attimo qua i premi 10.100 gettoni a 40, un progetto della Bugatti AB110 giusto, mi sembra, McLaren Film, due progetti quindi progetti misti, Lamborghini SC18, che ormai stanno regalando e 250 gettoni, ma ad arrivarci alle 361 condizioni, andiamo a vedere un attimo così, passando velocemente le auto Concept S che ci regala sempre i progetti della Concept con la McLaren Artura e qui quindi sarà difficile anche qui andare avanti perché è richiesto già, no, qui nessuna stella, meno male quindi andiamo a prendere qualcosina di qua con la Bugatti AB110 ok, nessuna stella, perfetto e questa, l'SC18, noi abbiamo tutto ma anche qui comunque non chiede stelle quindi almeno questi primi step si riescono a fare la Film ok, perfetto anche in prova gratuita perfetto anche questa qua senza senza stelle questa l'avremo in prova gratuita la Tuatara e anche qui senza stelle perciò si va a racimolare qualcosina poi ripartiamo con la Rimac S qui dovremmo farle un po' tutte le condizioni in teoria abbastanza semplici se le auto sono in prova gratuita ok, qui perfetto quindi anche qui fino a qui si arriva senza stelle si vanno a prendere un bel po' di progetti e qui si continua si continua con altre auto quindi ancora oh ancora senza stelle buono anche qui senza stelle è tutto senza condizioni di stelle la Mustang doppio appuntamento con la Mustang allora si inizia ecco da qua ragazzi si inizia con le stelle comunque si riesce ad arrivare almeno al livello 10 almeno con le stelle qui un altro questo è a livello 5 5 stelle volevo dire poi abbiamo l'Artura ripetono le doppie a 2 stelle andiamo un po' a 3 stelle qua no 4 stelle questa ce l'abbiamo vediamo se è sempre in prova gratuita no qui bisogna dopo iniziare ad avere le auto iniziano un po' i livelli le difficoltà e poi andiamo a prendere altri progetti qui possiamo andare a battere batti il tempo di 1.24 usa un'auto a 3 stelle per vincere la chiave della Bugatti e B110 ma possiamo usare soltanto la Rimac come auto e quindi qui bisogna avere la Rimac a 3 stelle andiamo a prendere la chiave della Bugatti qui andiamo a prendere la chiave della Film sempre con la Bugatti sempre con la scusate con la Rimac andiamo a vedere ora questa Rimac Concept S come si piazza quest'auto di qua la Lamborghini la Film andiamo a prendere i progetti dell'auto è la chiave della Lamborghini SC18 la Rimac Concept S è una auto di classe S bisogna averla almeno alla terza stelle no qui alla sesta stella la quinta ecco qui alla sesta stella che auto ci regala ah un sacco di progetti è la chiave della tua Tara non male non male andiamola a vedere un attimo nel garage la Rimac Concept S che livello si piazza andiamo subito nel livello S andiamo in fondo vediamo un po' e non è un non è molto avanti come auto no non ci credo eccola qua non è la peggiore ma metà metà bassa e quindi se vogliamo investire comunque ci andiamo a prendere anche un bel po' di auto continuano poi per il resto tutti gli altri eventi se riuscite ad andare avanti e passiamo quindi agli eventi giornalieri andiamoli a vedere perché anche qui ce ne sono un bel po' questi li andiamo a ritirare più tardi allora questo San Valentino no questo Sogno su due ruote che c'era già Sogno su due ruote ancora che c'era già abbiamo ancora tre giorni Esibizione Pass Leggendario ancora sette giorni Vetrina Primavera in Fiore questo è nuovo ah no ok si è quello del Pass poi abbiamo San Valentino Buon Capodanno Lunare questo vediamo poi non mi ricordo se l'ho fatto si questo l'ho fatto The Future Began in 1963 qui ancora da andare a prendere due progetti poi abbiamo questo qua questo ok questo è nuovo perché non l'ho fatto ci sono premi da andare a prendere vediamo un po' che chiavi che progetti Lamborghini classe D ok tre progetti non male non male per chi non le ha poi abbiamo quest'altro nove giorni per farlo evento di carnevale con 50 gettoni con 50 gettoni Aston Martin DBS super leggera e altri 25 gettoni qui ancora il mese degli anime anche qui abbiamo tutti no credi di gettoni e tre progetti della Porsche 918 spider un po' di gettoni sparsi in tanti eventi poi abbiamo eccolo qua l'evento unleashed scatenata McLaren station DLT spider prova McLaren spider scatenata e McLaren spider competizione anche qui andremo a vedere un video dedicato anche perché si sarà da fare i tempi allora 5 progetti poi tanti gettoni battendo il tempo di 1,15 qui se ne vanno a prendere molti sono 750 battendo il tempo di 1,15 andiamo subito a vedere se il tempo è fattibile vediamolo subito con la McLaren 600 LT spider del nostro potenziale quindi come ce l'abbiamo io lì ho visto che ho una stella 1,15 tempo da battere pista arco di trionfo McLaren 600 spider si prova siamo in Francia a Parigi 750 gettoni da andare a prendere ottimo anche avere lo slipstream sembra che le auto ci prendono un po' di mira non ci credo non ci credo non ci credo l'espulsione con l'auto parcheggiata ultimamente sto esplodendo nei modi più disperati e qui andiamo mettiamo a rischio quindi il tempo del giro con quel crash infatti infatti non ce la facciamo per pochissimo comunque abbiamo visto che il tempo è fattibile purtroppo è andata così però 1,15 quasi fatto anzi fatto diciamo 1,16 con incidente un tempo abbastanza facile da fare da non sprecare ticket come ho fatto io in questa occasione e andiamo a prendere anche i progettini non male secondo step che ci da i progetti ce ne sono qui bisogna avere l'auto a tre stelle però di già comunque ne abbiamo altre auto però che è la stonmartin spister la drago gte la lamborghini diablo gt la mclaren 765 lt per andare a prendere i progetti che sono 5 10 15 20 più quegli altri sono 25 poi abbiamo i pezzi di importazione che sono 4 però questi da fare con la mclaren 600 lt spider quindi qui le abbiamo manca la diablo a tre stelle buon motivo per andare a shoppare qualcosina nel negozio se c'è ancora il pack e poi l'ultimo bisogna qui aver sbloccato l'auto andiamo a prendere 100 gettoni in base alle stelle che facciamo andiamo a prendere un po' di gettoni token non male caccia all'auto pin in farina h2 speed e caccia all'auto con chiave ferrari 599 x evo rivolta delle auto delle dodge viper gts questi sono i classici elite classe c andiamo a vedere se hanno messo hanno cambiato le auto no rimango sempre le stesse auto però qui abbiamo vedete un sacco di premi qui si vanno a prendere tutte ottimo avere un'auto al massimo per andare a prendere tutti i gettoni questi sono eventi che conosciamo hanno allungato ancora di tre giorni la caccia all'auto della ford mustang mac e 1400 per andare a portarla a 5 stelle e prendere la chiave e ok qui ho appinato ok queste poi dopo sono le stesse le classiche gare e abbiamo visto un po' tutto gli eventi giornalieri multigiocatore uno contro uno 250.000 crediti abbiamo la possibilità di andarli a prendere ah usando la rima concept S è il classico qui dobbiamo fare cercare di fare 12 vittorie in base alle vittorie che facciamo prendiamo un premio corrispondente però alla terza sconfitta ci fermiamo è finito il multiplayer meno male sono riuscito a prendere un progetto della venera è sempre qualcosa in più e 10 gettoni quindi qui riparte la serie classica il multiplayer serie classica questa è la serie classica normale di traguardi a 30.000 andiamo a vedere calza delle festività ancora ancora calza delle festività dai con le chiavi delle auto potrebbero cambiare la grafica almeno facciamo stare 100 oggettoni pacchetto buono pacchetto platinum sono due pacchetti eh e il pacchetto legend che è alla fine due pacchetti anche qui può andare a trovare queste auto qua finale con pezzi di importazione e invece di queste auto non male non male non malvagio un po' ripetitivo pochi progetti purtroppo qui nei primi 3000 un progetto della vision e a salire e 10 gettoni e così si vanno a salire i progetti in base alla posizione che riusciamo ad arrivare il primo prende solo 20 progetti ma 3 carte jolly i pacchetti in base alla lega in cui arriviamo andiamo a prendere i relativi pacchetti se arriviamo in legend prendiamo i pacchetti gold platinum e legend quindi non male multiplayer 2 mp2 funk serie limitata qui sono curioso di andare a vedere i premi vabbè i primi 500 un premio discreto 50 gettoni i primi 175 gettoni e poi qui pezzetti pacchetti con ragazzi i pezzi di importazione di queste auto qua quindi non sono male questi premi però arrivare nei primi 500 non è semplice i premi di lega invece sono a crediti perfetto allora andiamo a vedere i traguardi vediamo subito se è a 3000 sì abbiamo un pezzo di importazione oh 200 gettoni vanno bene qui c'è un altro pezzo di importazione 100 gettoni è buono però almeno ci sono un po' di gettoni ci sono abbastanza direi andiamo sui 400 andiamo a vedere 2 da 50 2 3 400 400 gettoni non male 5000 però i punti sono 5000 punti qui usiamo l'auto tutte queste auto qua le vedete in prova gratuita e senza carburante senza tanniche di benzina quindi il multiplayer lo abbiamo visto adesso andiamo a vedere niente il club continua quindi non non cambia nulla andrà per lungo la stagione club andiamo a vedere allora le missioni da fare per questa settimana soprattutto per chi ha il pass tempo con nitro negli eventi giornalieri ok basta sparare il nitro ottieni punti in posizione basta giocare arriva primo nel multigiocatore anche qui basta giocare è più facile arrivare primo nelle categorie più basse quindi bronzo silver derapa per 750 metri in una singola corsa con un'auto a 2 stelle abbastanza semplice completa 10 corse a Osaka o Caraibi anche quello semplice esegui acrobazie in una singola corsa 10 acrobazie in una singola corsa con auto a 3 stelle quindi basta fare avvitamenti 360 e anche espulsioni raccogli taniche nitro nel multigiocatore nella pista di Osaka questa già inizia a essere un pochino più tra virgolette diciamo complicata perché da Osaka dobbiamo raccogliere le taniche ma basta che capita la pista di Osaka nel multigiocatore e lo faremo mentre di qua l'opposto raccogli taniche nitro in una singola corsa meno di 4 a Osaka con auto però a 3 stelle espulsioni onda nitro 10 esegui avvitamenti in una singola corsa in modalità carriera 3 avvitamenti nella modalità carriera qualsiasi corsa completa corsa nel multigiocatore Osaka e Caraibi con auto a 3 stelle dobbiamo fare 5 corse apri pacchetti di carte basta fare la caccia all'auto infatti io ho fatto un po' di caccia all'auto della Mustang e ho già aperto 32 pacchetti quindi direi che andiamo a vedere un attimo il negozio direi che ci siamo quasi allora il negozio ok a parte questi che noi scorriamo abbiamo i classici pacchetti ci sono ancora i pacchetti del Funk Fordzilla per chi sblocca ecco i pacchetti della Rima Concept S senza a 750 senza condizioni 10% pacchetto classico ancora disponibile primavera in fiore pacchetti Volkswagen Coupé qui ce n'è da spendere McLaren 600LT anche questo frequenza sempre sono tutti simili 750 Ferrari 599 Ford Mustang Dodge Viper Pininfarina H2 Speed hanno messo tutti i pacchetti e quindi non ci rimane che andare a usarli vediamo qui se c'è qualcosa qualche staffetta se fosse stata messa a gettoni ah ci sono anche i gettoni a pagamento della i pacchetti a pagamento della del road test un sacco di pacchetti a pagamento però nessuna ok non c'è niente qui intanto abbiamo i progetti questa è la nuova cassa che hanno messo questa non si ripete ragazzi qui se volete pagare 150 oggettoni 2 euro qui classico negozio quindi non ci sono non c'è una staffetta particolare al momento quindi non c'è niente di particolare qui termina il negozio la rubrica del venerdì di Asphalt 9 Legend per Switch se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace vi chiediamo anche di commentare le novità quello che vi piace e quello che non vi piace e come sempre vi invitiamo iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti grazie grazie Grazie.